Mi chiamo Valentina Pisu e sono una ceramista. La mia formazione nasce all'Istituto Statale d'Arte di Oristano per sviluppare lo studio e le tecniche ceramiche, unendole poi a quelle dell'Illustrazione che ho affinato a Reggio Emilia frequentando la Scuola Internazionale di Comics. Dopo anni di ricerca e perfezionamento, anche grazie al lavoro presso altri ceramisti professionisti, ho aperto il mio laboratorio a Oristano. Credo sia fondamentale distinguersi identificando una voce nel proprio modo di fare arte. La mia identità è il frutto della fusione tra l'arte ceramica e l'illustrazione. Do forma a quadri e sculture che principalmente sono femminili. Nel mio percorso di ricerca è fondamentale anche la componente letteraria, non solo per ispirarmi al genere fiabesco, ma anche per sviluppare dei soggetti specifici, come ad esempio uno legato a Grazia dell'Edda. Per me essere artigiano oggi significa portare avanti con forza la propria voce, che non può prescindere da anni di studio, soprattutto sul piano tecnico e sulla conoscenza dell'arte, per emanciparsi da essa e trovare una propria identità.